Overkill, questo scarpone è stato studiato per i freestyler, ottimo design con una caratteristica fondamentale che è il shock bumper e questa caratteristica serve appunto per ridurre l'impatto negli atterraggi. Leve in spine tech che fanno sì che questa abbia una chiusura più precisa e appunto si rifà a raptor e quindi è uno scarpone con caratteristiche appunto performanti. Come si vede ha una bellissima scarpetta e bellissimi colori.